e te guarda, mi sei passato a me da siamo venuti a fare una palla a fede che vai in una palla a fede questo è praticamente molto classico è il passaggio, la mano e la rinestizione è il passaggio e la rinestizione sempre su chi fa il passaggio sempre faccio l'impossazione di un'altra faccio l'incrocio e passaggio con la mano destra se voglio fare il passaggio con la mano sinistra incrocio la gamba destra e faccio un passaggio con la mano sinistra per chi riceve la palla per chi riceve la palla la prima cosa che vuole fare è iniziare il possesso fondamentale con il silenzio d'utegato poi voglio chiamare la palla con le mani così le faccio vedere al compagno come voglio il passaggio la palla non la voglio mettere le camiglie non la voglio sopra l'attesa però la voglio proprio qua e con la bocca chiamare la palla quindi parto basso vai 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 e l'ultima cosa che voglio fare quando ricevo palla è proprio questo un arresto in equilibrio facendo un piccolo salto verso la palla io non sono qua e aspetto la palla che arriva a me vai 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 e nei piedi sono morti a terra quando la palla viene verso me faccio un piccolo salto verso la palla e faccio me l'arresto in equilibrio sempre iniziando tirando le ginocchia chiamando la palla con le mani e con la bocca vai 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 e sono qua poi lui chiamerà la palla leggo leggo incrocio e un bel arresto in equilibrio è sempre me che sente l'arresto faccio il piccolo salto verso avanti non è indietro con la cazza dell'attività di tagliare quindi questo è complicissimo ci mettiamo davanti farà qua la palla quindi stiamo facendo un passaggio a mano a destra quindi farò l'incrocio a mano a sinistra passaggio a mano a destra alle mani dei compagni voglio dire che tutti tre chiamano la palla e tutti ne fanno un piccolo salto avanti per ricevere la palla nel equilibrio perfetto pronti? via adesso quando siamo in posizione fondamentale di fare le mani e faccio l'arresto certo sono la palla lo più vicino al corpo possibile se io faccio questo qua con la palla prima che la tranziatore è troppo lunga e non è un momento compagno però ho anche la cazza dell'intessore di mettere le mani sulla palla adesso facciamo passaggio con mano a sinistra arresto incrocio e passaggio piacchiamo 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 arresto incrocio e passaggio piacchiamo 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 arresto incrocio e passaggio sempre cercando a tenere la palla lo più vicino al corpo possibile soprattutto per non dare la cazza dell'intessore di mettere le mani sulla palla vai a pesco qua vai a pesco qua vai a pesco qua vai a pesco qua mano sinistra pronti via Quando faccio il tiro e il tiro lo forzo, faccio il passaggio e le mettete più velocità a quel passaggio, più dritto, senza quel piccolo secondo in più chiedere a arrivare più là. Mala sinistra, pronto, via! Mala sinistra! Molto semplice, lavorando proprio sul fondamentale della ricezione e del passaggio. Ci sono tante combinazioni su queste qua, possiamo fare il passaggio schiacciato, possiamo fare finta del tiro, passaggio con l'altra mano e l'altra direzione. Adesso ci sono i micchi, vieni qua dietro dei vani, Diego dietro di Jacopo, Luca dietro di Simone. Questi qua sono lo stesso per invece di essere due passatori e una palla, anzi Luca, Diego e Micchi prendete più una palla di una. Prima di fare quello con tre giocatori e un pallone, voglio farmi vedere con questo stesso esercizio di prima, quello con due pallone. Però con due pallone, quindi Mani prende palla a te, ma se tutti noi facciamo un passaggio in mano destra, tu lo fai a questo lato qua e questo lato qua. Facciamo lo stesso tempo, tutti e due chiamiamo la palla, tutti e due facciamo l'arresto e facciamo il passaggio. Continuo, 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 pronto? Mani, mano destra, mano destra, un cambio, facciamo il passaggio in mano sinistra. Pronti? Via! Ora emittiamoci per fare il passo, incrociato, vogliono permettere di più forza sul passaggio. Secondo quanto senso di essere biancata davanti a me, fortevo il pallone e riesco a fare un basso. Pronti? Via! Cambio! Ecco, togliamo tutti i testi per l'anima, percela, Michi, Diego, Luca. Adesso è lo stesso esercizio, lavorando su il passaggio e la direzione della quale è l'equilibrio perfetto del simbolamentale. Però adesso, dopo il passaggio, corro dietro il compagno e sarò pronto per la ricezione dell'anima. Quindi, parto di qua, passaggio. Tengo la mano in questa posizione qua, fino a cadere dietro la pila. Vincent fa lo stesso di la mano destra. Tengo la mano, Vincent. Manuel, vai, vai Michi. Vieni, mano, passaggio e tengo la mano fino a cadere dietro. Vieni, al resto, tengo la mano, Michi, Michi, Michi. Fai lui . Vieni, puoi femmina, Michi, 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 manfa male e ganfino. Emilia, con queste righe vienze! Pronti? Inizia! Inizia! Non si capisce! Non è mai male! Non è mai male! Non è mai male! Non è male! Non! Non quello nello! Stavissimo! Per favore ancora meno! Per favore ancora meno! Per favore ancora meno! Iniziamo a fare! Come facciamo! Se vicino a scopo! Se siete pronti? Prendete a penetrare! Poi fanno passaggio! Non c'è di stare trovando una parola come venuto per caricare il passaggio, la forza del passaggio è quando fate questo spazio, non dovete caricare il passaggio, non è vero che dovete caricare quel passaggio, vieni qua, non dovete fare questo, vieni qua, vieni qua, fa la vicino al corpo, sito,ATE, fa la vicino al corpo, sotto il mentore, alla destra, alla destra, vieni qua, vieni qua.